Buongiorno a tutti. 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 gara veramente veloce e vengono a passaggio per tutti 8-10-1-5-2-4-3 quindi rossetto e rucciari ecco i nomi la scuola e le poter da la famiglia 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 e la mani a terra e la scuola 5-7-5-8 come in e tagliata come in e tagliata come in e tagliata con russetto per questo immagini rispetto al lupo o smanela carole mio nome camanela tagliata e le poter da la famiglia Allora, guarda lì. 758, 805 a 1 758, 805 a 1 Unita canna, è un rossetto Ora è, è un rossetto In testa a 1 A trairà dell'Azuno Partinaggio Bossa Di Prepasere Che seguita da Dajano In via del partitato di Sinacusa E poi cabaletta Della casetta Vosè, tagliata A prendere questo passaggio 851, 758 Continua con una nuova signora E' un'altra indietro E' un'altra indietro A passare con i greci Rossetto A cabalina E' un'altra indietro E' un'altra indietro Rossetto A cabalina Questo passaggio Ora al prossimo Gio Roscavona A cabalina 3 Ed è ancora A cabalina Cabaletta A cabalina E' un'altra indietro A cabalina è tagliata a questo passaggio dell'intensito di messa ed è tagliata per uno secolo la barata non è tagliata è tagliata è tagliata è tagliata è tagliata partita partita seconda batteria fantastico, buon microfono, abbiamo un fumo con il fuoco allora, buon bambino, buon bambino, buon bambino e la tarea deve tranzitare il 96 poi tranziteranno ancora i 95 e ci sono le scelme della canale, un bravo regino che assegna i punti ed è già abbracciata la prima romana per i punti 80, 289 vale un sì, buon bambino questo è il primo giugno è il primo giugno ma è il primo giugno è il primo giugno un giugno non è il primo giugno il giugno è il primo giugno è costino a passaggio di buon giugno Buongiorno di Natale, 289 e 244. Buongiorno di Natale, 289 e 249. 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 3. 9. 1240. Quindi Walker e Finatale ed ecco la comunicazione d'una Panunzi di Meri. Vieni a unito il numero 216 Proce, ammustante, testa al gruppo Palunzi, alcuni dai, apretta ai punti 80, 289 Palunzi, al gruppo dai Al passaggio, al campanile, per i 12 Ed è avanzato, che si riporta in testa E rinaggia l'azione E' avanzato, che si riporta in testa Balanzano, che si riporta in testa 310, 816 Palunzi, al gruppo dai Di Natale, Balanzano, Mellettine Ed è avanzato, che si riporta in testa 819, 244 Palunzi, al gruppo dai Al passaggio, al pennone, al gruppo dai Un vari, di Natale 289, 244 Un vari, di Natale, Polunzi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.